Attenzione Enrico, terzo minuto di gioco a Firenze, Napoli in vantaggio con Maradona, un gran gol, riceveva la palla da Bertoni, entrava in area spostato sulla sinistra, faceva partire un sinistro al volo che si insaccava in diagonale, quindi è l'1-0 per il Napoli al terzo minuto Maradona. Gran gol con un perfetto passaggio di Bertoni, Maradona entrava in area sulla sinistra e faceva partire il suo sinistro in diagonale che sorprendeva Galli, 1-0 per il Napoli. In apertura di ripresa il lampo di Maradona.